Prima giornata di allenamento per i nuovi calciatori del Pescara Riccardo Fiamozzi e Cristian Bunino. Come vediamo nelle immagini, i due calciatori hanno sostenuto la seduta singola mattutina al Poggio e saranno a disposizione di Zdenek Zeman per la partita di Frosinone. Il primo prende il posto in organico che era occupato da Zampano. Il secondo va ad arricchire lo suolo di attaccanti che copriranno le spalle al bomber Pettinari ed arriva nello scambio con Mancuso fatto dalla Juventus per Bunino. E Mancuso contratto fino al 2022 ma l'ex San Benedettese resta fino a giugno in prestito a Pescara. Assente oggi Emanuele Lattelat, l'esterno infatti rientra all'Atalanta in anticipo e quasi certamente resterà alla Dea per risolvere i malanni fisici che lo hanno tormentato finora. Diverse le situazioni in uscita da monitorare. Nelle ultime ore è spuntata la pista Ascoli per il senegalese Frank Canutè. Il direttore sportivo del Picchio Cristiano Gialetta punta al prestito secco fino a fine stagione per il centrocampista che stamani si è regolarmente allenato al poggio ma che ha perso posizioni nelle gerarchie di Zeman, il quale oramai nel ruolo gli preferisce Carraro. Nel pomeriggio ci sarà l'ufficialità. Ore decisive per Andrea Cocco e Pierluigi Cappelluzzo. Uno dei due dovrebbe partire dopo l'arrivo di Bunino. Le offerte a Cappelluzzo non mancano soprattutto dalla Serie C ma il centravanti deve prima rientrare al Verona. Praticamente fatta per la cessione di Ransford-Selazzi al Lecce fugati i dubbi sulle condizioni del centrocampista ganese. Il Lecce è prossimo all'annuncio. Luca Forte è vicinissimo al Monza che comunque sta seguendo anche Khalil. Andrea Rossi e Ervoye Milicevic molto difficilmente si accaseranno rispettivamente alla Casertana e all'Onved Budapest quindi resteranno al libro paga del Pescara a meno che non si trovi un accordo per la rescissione del contratto. Stesso discorso può essere fatto per Guglielmo Stendardo che non ha mercato e non rientra nei piani del Pescara. Anche in questo caso rescissione o stipendio pagato fino alla scadenza del contratto nel mese di giugno. Allo Stato il Pescara ha preso in prestito il portiere Vidovcec dall'Atalanta per la primavera di Epifani ma non c'è ancora il dodicesimo che al momento è Savelloni. Resta in piedi tuttavia l'ipotesi Antonio Rossati in uscita dal Perugia ma sul quale c'è l'interessamento anche della Salernitana. Non ci sono dubbi sulla permanenza di Luca Valsania nonostante l'interesse mai sopito del Carpi. Per quanto riguarda l'impegno difficile dello stadio Stirpe contro il Frosinone di sabato oggi Mattia Proietti ha fatto ancora palestra. Certa la sua assenza. Allenamento regolare per Bruckman che ieri non aveva lavorato per precauzione per un piccolo problema muscolare. Ballottaggio al centro della difesa tra Campagnaro e Coda entrambi in buonissime condizioni.